Dottor Schiavo, lei la parola. Ma allora, io diciamo concordo abbastanza su quello che è stato detto finora, non concordo sulla tua frase iniziale, cioè il sistema delle regole è un sistema che complica le macchine e quant'altro, io devo dire grazie a Dio c'è, perché dobbiamo sempre ricordarci che siamo dei intermediari finanziari e non siamo degli immobiliaristi, perché se scadiamo e entriamo nel campo degli immobiliaristi allora diventa una giungla questo mercato come è stato poi nel passato. Quindi se apparteniamo al campo degli intermediari finanziari, cosa che mi sembra, credo che anche Giuseppe l'abbia confermato, il tema delle regole che governano non un intermediario è un tema fondamentale, ma non è solo un tema fondamentale per la buona riuscita di questo settore, per la sua trasparenza e tutto quello che la dottoressa prima ha illustrato, ma è fondamentale per attrarre degli investitori con delle regole al pari dei nostri competitori internazionali che invece arrivano, l'abbiamo visto prima i dati delle domande per la bassa proprietà, anche se credo che siano più richieste da chi gestisce prodotti immobiliari rispetto ai immobiliari, ma competono in questo modo con regole che sono come le nostre, del resto sono direttive ormai europee. Venendo al mercato immobiliare invece, quindi quello delle SGR immobiliari, oggi in Italia abbiamo due temi, c'è un tema di operatori e c'è un tema di prodotti, quindi provo sinteticamente a affrontare le due cose. Tema di operatori, credo che negli ultimi anni c'è stato un tema di concentrazione abbastanza forte, abbiamo i primi due operatori sul mercato e sono il frutto della fusione tra due barra tre operatori sul mercato, noi stessi abbiamo contribuito negli ultimi anni alla crescita aggregando, anzi comprando, non aggregando, altre piccole strutture che non sopravvivevano più, questo perché? Perché oggi c'è un limite dimensionale minimo come tutte le macchine dove se la macchina deve avere una dimensione minima per poter funzionare e garantire l'assetto della macchina, cosa che in passato questo proprio non avveniva. C'è un tema di prospettiva, quindi un mercato che abbiamo visto che si cresce ma è ancora un mercato molto piccolo e credo che il problema del mercato molto piccolo sia un problema di prodotti. Veniamo al tema dei prodotti, abbiamo il mondo del retail, un mondo che secondo me ha funzionato in una certa fase storica, sicuramente non ha una prospettiva nel futuro nel suo attuale assetto, però è anche vero che se non siamo in grado di catalizzare il risparmio retail sui prodotti immobiliari ho paura che a 39-38 miliardi ci fermiamo, di più è impossibile e quindi bisogna riengegnerizzare, come ha detto prima anche il dottor Macaluso, i prodotti destinati al retail che devono sicuramente uscire dall'ambito di questo concetto di scadenza immediata e anche perché questo fa sì che diventino degli elementi stabilizzatori per l'economia e che questi prodotti possono anche finalmente investire in asset class che non sono mai stati oggetto di reale acquisizione da parte dei fondi e qua parlo dell'asset class più grande che abbiamo in Italia che è sicuramente residenziale, lancio una provocazione, vedevamo prima i dati di Nomisma, se il mercato residenziale realmente sta ripartendo e se i dati che abbiamo visto sul breakdown delle fasce economiche per reddito delle famiglie, sempre di più il mercato dell'affitto diverrà un elemento essenziale e sicuramente l'elemento essenziale, allora a questo punto esattamente come in altri paesi come la Germania, la Francia, l'Olanda, i grandi proprietari di appartamenti sono i grandi fondi che poi tra l'altro parcellizzano il risparmio, la proprietà sul risparmio indistinto, quindi questo in dubbio. Tutti gli altri strumenti benvengano, devo dire che ormai il mercato finanziario quotato si è ridotto all'osso e quello che è servito negli ultimi anni è stato fare una grande pulizia di operatori, quindi tutto ciò che aveva dei problemi è sparito o sta sparendo dal mercato, c'è ancora qualcosa da fare, avremo sicuramente un tema legato a tutto questo mondo del no performing perché anche lì le autorità comunque stanno spingendo perché ci sia una grande pulizia dei bilanci delle banche e se io credo un decimo dei no performing che hanno accennato di vendita alle banche che metteranno sul mercato poi prima o poi tutti questi grandi fondi che comprano queste attività immobiliari prima o poi dovranno essere vendute e quindi o siamo pronti col mercato per recepire queste attività oppure non si vada molto lontano. Sentendo alcune riflessioni sul tema di altre SGR forse la normativa nel modo in cui è stata proposta ha dato la sensazione alle SGR che certamente in caso di esternalizzazione della funzione il costo rimanesse in capo alle SGR, mentre l'esperto indipendente lo sappiamo che è un costo in carico al fondo. Forse non è proprio così almeno dalle sensazioni da come è stata interpretata perché poi a volte c'è anche una prassi che si instaura potrebbe anche essere un ragionamento da proporre successivamente una maggiore focalizzazione nell'interpretazione. Non so se i nostri due speaker hanno voglia di un commento sul fatto che loro per il momento non pensano proprio immagino esternalizzare la funzione di valutazione, ce l'hanno interna, hanno tanti fondi e tanti esperti indipendenti. Sappiamo che avete necessità di avere una funzione interna che controlla gli esperti indipendenti quindi comunque c'è la necessità di una forte organizzazione anche su questo. Il vostro punto di vista perché per il momento non avete pensato a un'esternalizzazione di questa funzione. Ma diciamo che noi, parlo dell'esperienza di Castello, abbiamo tutte le funzioni di controllo internalizzate. Quindi oggi l'idea di abbiamo fatto fatica negli anni a portarle dentro, oggi l'idea di esternalizzarle andrebbe un po' in contro direzione come lo abbiamo fatto. Per noi l'assetto oggi del lavoro esperto dipendente e controllo interno quindi con un responsabile della funzione delle valutazioni è un assetto che funziona. Sicuramente questo comporta del lavoro, devo dire che negli anni, sono dieci anni che faccio questo mestiere, anche la professionalità degli esperti è cambiata molto. La normativa recente ha anche fatto sì che tutta una serie di problematiche legate a eventuali conflitti venisse meno. Questo sta creando in Italia anche nuovi operatori che prima non esistevano. Poi possiamo aprire la discussione, l'investitore internazionale gradisce più un nome rispetto a un altro, ma direi rimandiamo la prossima volta perché sennò non ne finiamo più su questo tema. Però io lo vedo come un elemento positivo, poi come tutte le novità hanno bisogno di assestarsi e quando saranno assestate nessuno ne parlerà più. Ultimo intervento, passo la parola al dottor Schiavo. Una parola anche da parte vostra su come approccio all'innovazione, magari di prodotto a questo punto, visto che avete una macchina ben rodata, classica, funzionante, avete fatto concentrazione quindi avete raggiunto già una massa importante. Parlavi di innovazione di prodotto o innovazione di settore, per esempio vediamo che spesso quando si parla di alberghi siete voi ad essere citati. un tema del turismo, forse l'industria che ormai ci resta in Italia e che ha bisogno di un grande ammodernamento della struttura e delle infrastrutture turistiche, chiedo se questo potrebbe essere o è già nella vostro caso un fronte aperto in cui pensi che la finanza immobiliare e la vostra seggere più in generale gli strumenti di finanza immobiliare possano offrire delle soluzioni interessanti. Allora noi negli ultimi anni ci siamo focalizzati molto sull'innovazione, da un lato sul mondo del no performing che non necessariamente è il no performing loan che tutti conoscono ma anche il no performing asset, sappiamo che di tutti i fondi che ci sono oggi molti sono in una fase direi di stress, quindi noi siamo andati proprio a prendere queste situazioni cercando poi di rimettere a posto le situazioni o trovare un equilibrio a queste situazioni. Questo ovviamente in un mercato dove la raccolta di nuovo capitale è molto sottile, direi irrisoria. Dall'altro ci siamo focalizzati su delle nicchie di mercato perché è vero che le transazioni sono ripartite 9 miliardi ma è anche vero che questi 9 miliardi credo per il 95% non è niente altro che qualcosa che è passato da una mano all'altra, quindi il prodotto poi è sempre lo stesso. Il light model che sentiamo in tutti i convegni è che non c'è prodotto in Italia, questa è la realtà. Quindi bisogna andare a lavorare su segmenti dove la parte di asset management è molto importante. Quindi cose da mettere a posto o su nicchie specifiche. Noi siamo stati un po' i primi in Italia nel mondo turistico alberghiero, oggi abbiamo quasi 19 strutture per 3.000 stanze tra i vari fondi ed è un asset class su cui nei prossimi anni vorremmo investire molto e arrivare dai 350 milioni attuali circa di investimenti a circa 700.